Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo video come dice nel titolo anche io sono entrato con Grizzly che cos'è Grizzly? è la nuova piattaforma ragazzi che ci permette, vi permette di ricevere dei video messaggi dai vostri idoli in questo caso io so vabbè magari idolo è una parola grossa però più o meno è così dai come funziona ragazzi? in che senso ragazzi ricevere dei video personalizzati? nel senso che tutti voi potreste fare delle richieste sul sito c'è il link in descrizione mi raccomando cliccatelo per avere le maggiori informazioni potete fare delle richieste su video personalizzati e soprattutto privati per voi faccio degli esempi molti di voi sotto i miei video mi chiedono Luke vi fai gli auguri di compleanno? ecco la stessa identica domanda può essere fatta su questo sito, su questa piattaforma Grizzly però sotto forma di un qualcosa di diverso ossia i video che io vi farò personalmente e privatamente per voi sono a pagamento ora qui non vi preoccupate fatemi finire ragazzi non a pagamento nel senso che non pagate me diciamo che io dovrei essere non l'obiettivo principale ma dovrei essere lo sprono sono l'intermezzo ma l'obiettivo principale dovrebbe essere che voi facciate un'opera di beneficenza se andate sul mio account su Grizzly su Luke 416 c'è il link in descrizione vedrete e noterete che io ho scelto come ente Unicef ce ne sono tanti altri ragazzi e se volete magari consigliatemi nei commenti in quella lista che c'è sulla piattaforma consigliatemi e magari posso anche aggiungerli io devorò, devorò si dice? tutto, vabbè comunque tutto, quello che guadagno, che guadagno? tutto quello che ricevo, che ricavo in beneficenza per cui il vostro obiettivo appunto è fare un'opera di beneficenza e io sarei l'intermezzo, ok? per cui un esempio, uno di voi ha un esame per esempio un esame che cavolo ne so per diventare avvocato mi manda una richiesta sul sito, mi raccomando è importante sul sito mi fa la richiesta con scritto Luke domani ho l'esame per diventare avvocato mi faresti gli auguri gentilmente si fa una donazione, c'è tutto comunque sul sito ragazzi una donazione per quel video io ricevo la richiesta direttamente sul telefonino e vi mando il video, il video che rimane a voi un video che è vostro, non è un video pubblico un video su YouTube, su Facebook è un video per voi per cui è una cosa, è una piattaforma, è un'associazione è una cosa abbastanza carina, molto carina e interessante soprattutto e sapete che quando c'è opera di beneficenza io ne sono particolarmente dentro andando sul sito ragazzi c'è un mio piccolo video introduttivo che magari vi aspetta è un piccolo video di benvenuto anche a voi su Grizzly e vi consiglio di guardarlo è un video fatto velocissimo per cui vi consiglio, vabbè comunque avete capito più o meno e niente ragazzi questo video era appunto per annunciarvi che anche io faccio parte di questa iniziativa chiamiamola iniziativa di questa piattaforma piattaforma che poi è anche un'applicazione che si scarica sul telefono però vi ricordo che la richiesta va fatta sul sito e che dirvi in questo video vi annuncio anche ragazzi in questo momento voi vedrete questo video io sarò già in live su hitbox link in descrizione e se avete qualche domanda da farmi per quanto riguarda Grizzly basta farmi nel live io vi rispondo per tutto il resto visitate il sito la piattaforma, scaricate l'applicazione fate ciò che volete e che dirvi vi aspetto numerosi ragazzi secondo me è un'iniziativa molto importante ah beh logicamente è una collaborazione costretto con Grizzly è un video non sponsorizzato è un video di collaborazione dove collaboriamo per cui non iniziate a farvi commenti strani in testa nel tipo io prendo soldi e ci guadagno da questa cosa perché è totalmente il contrario anzi facciamo qualcosa di bene ogni tanto un bacione un abbraccio vi aspetto in live ciao a tutti a tutti